Ma quale lo dispoto? Barletta questa volta rivendica con forza la presidenza della provincia. Non usa mezzi termini il sindaco Mino Cannito, intenzionato a porre la sua candidatura come successore di Giorgino. Barletta, ci dice Cannito, ha sempre responsabilmente fatto un passo indietro a favore degli altri comuni e per questo motivo il sindaco della nostra città non ha mai ricoperto né il ruolo di presidente né quello di vicepresidente. Oggi che purtroppo Andri è assente dal consiglio provinciale a causa dello scioglimento anticipato della sua consigliatura, non vedo perché Barletta debba ancora una volta rinunciare a favore del sindaco di un'altra città. La presa di posizione di Cannito mette in crisi il tentativo, a dire il vero ancora a livello embrionale, di un accordo istituzionale sul sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, sul quale si stava creando una certa convergenza. Ora se non si arriverà ad un accordo che porti uno dei due a un passo indietro, il rischio serio è che si vada a uno scontro elettorale piuttosto duro. Entrerebbero infatti in gioco anche altri fattori che con la provincia hanno poco a che fare, come il sostegno allo dispoto dei consiglieri regionali Caracciola e Ventola, visto da Cannito come il fumo negli occhi. Inoltre senza un accordo c'è da chiedersi cosa farà il centro-destra considerando che entrambi gli attuali contendenti sono ascrivibili al centro-sinistra essendo di nota estrazione socialista. Starà a guardare o a questo punto deciderà di giocarsi la partita con un proprio candidato, ad esempio il sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo. Ricordiamo che il presidente viene eletto non dai cittadini ma dai consiglieri comunali dei comuni della provincia dove il centro-destra se compatto può dire la sua. Insomma comunque sia comunque vada al momento Cannito sembra aver sparigliato le carte. Ieri c'è stata la riunione dell'assemblea dei sindaci ma il discorso non è stato affrontato essendosi limitati a chiedere al vicepresidente facente funzione Pasquale De Toma di fissare la data dell'elezione del presidente non appena sarà emanato il decreto del presidente della repubblica che ufficializzerà la decadenza del sindaco e dei consiglieri comunali di Andria. Sull'attuale composizione del consiglio provinciale infuri infatti la polemica come è noto è stato prima convocato con i consiglieri subentranti e poi annullato e riconvocato con i consiglieri di Andria Giorgino compreso secondo la tesi che essendo sospesi e non decaduti sarebbero ancora in carica. Una tesi fortemente contestata al punto che il consiglio è andato deserto sia in prima che in seconda convocazione su quanto accaduto vanno registrati diversi interventi oltre a quello di Beppe Corrado uno dei consiglieri subentranti che il giorno del consiglio minacciò un esposto al prefetto ieri sia Laura Di Pilato e Gennaro Lorusso consiglieri decaduti che Forza Italia sono intervenuti con delle note con le quali parlano di alchimie pilotate da Giorgino e chiedono l'immediato ripristino del plenum del consiglio provinciale dato che la surroga immediata dei consiglieri decaduti a precedenti ben documentati. Forza Italia visto che si trovava approfittato per chiedere a Giorgino di dimettersi anche dal Gal ricordando come il sindaco Zaccaro nel 2010 pur non essendo obbligato con un gesto di correttezza istituzionale rassegnò immediatamente le dimissioni. Come cambiano i tempi? Il tanto vituperato Zaccaro in questi nove anni accusato la Forza Italia di essere il responsabile di ogni danno e nefandezza amministrativa oggi in chiave anti-Giorgino ne è diventato postumo eroe.